Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come configurare e regolare così l'audio su Windows 10 e Windows 11 ovviamente ho riscontrato vari commenti riguardo a una persona che non riusciva a regolare o configurare l'audio del suo computer quindi in questo caso sentiva troppo basso oppure non sentiva proprio l'audio su PC quindi in questo caso andiamo un attimo sull'audio sull'icona dell'audio in basso a destra tasto destro sopra su apri mixer volume qua tu puoi regolare l'audio su ogni applicazione che tieni aperto sul PC oppure se andiamo direttamente su impostazioni audio qui trovi l'output che sarebbe l'uscita quindi l'uscita delle casse, l'uscita delle cuffie quindi l'audio dal dispositivo che esce e questo qua invece è input per il microfono quindi in questo caso qui c'è scritto aggiungi dispositivo se devi aggiungere un dispositivo audio bluetooth o wireless quindi andiamo un attimo su altre impostazioni audio ed eccolo qua questa qua la schedina andiamo su riproduzione altoparlanti tasto destro sopra proprietà livelli ed eccolo qua altoparlanti se lo tieni su 0 ovviamente non sentirai nulla però se lo tieni su 100 oppure mutato quindi devi tenerlo su 100 abilitato e fare ok su avanzate qua amplifichi così l'audio ovviamente io lo tengo su 24 bit 48000 Hz dipende dal dispositivo casse o cuffie se faccio su prova e faccio ok oppure puoi fare la stessa cosa su ogni dispositivo di riproduzione audio che hai qua tasto destro sopra vai su prova e vedi se funziona ovviamente la tacchetta si alza e scende quindi si sente anche proprietà livelli ed eccolo qua realtech HD audio output su 100 tutto su 100 audio spaziale avanzate ed eccolo qua e qui aumento così il suono dell'audio 24 bit 48000 Hz posso metterlo anche a 24 bit 192.000 Hz qualità professionale che si sente più forte ovviamente se hai altri problemi a sentire ovviamente se senti ancora molto basso non senti proprio vai su ok quindi chiudiamo un attimo la schedina e c'è l'applicazione FX Sound Booster ed eccola qua io con questa boosto l'audio del mio PC quindi in questo caso vi ho lasciato in descrizione così il link che vi porterà sulla pagina per scaricare così questo driver lo installate una volta installato tanto è semplicissimo scarica e installa un piccolo software ed eccolo qua aggiungi così il dispositivo che stai usando sul tuo computer ovviamente io uso questo altoparlante FX Sound perché grazie a questo posso sentire molto molto bene i film, serie tv, giochi, musica, qualsiasi cosa perché con le cuffie Razer mi dice di comprare un software di 20€ che non comprerò mai perché non serve a niente quindi grazie a FX Sound ho boostato il mio volume stessa cosa sul Dell, sul monitor e sugli altri dispositivi e puoi regolare così l'audio spinta dinamica, aumento del basso, ambiente e chiarezza e devi tenerlo attivo oppure puoi semplicemente anche fare direttamente qua sopra su altoparlanti eccolo qua da 0 a 100 quindi se questo video ti è stato utilissimo su come configurare, regolare e modificare varie impostazioni sull'audio grazie a tutti per questa visione iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao